Riaperto il ponte ciclo pedonale della Tignamica, chiuso ad agosto per gravi problemi strutturali. Cinque mesi di lavori realizzati da Publiacqua che ora proseguono sul ponte Gemella alla Briglia per un importo complessivo di 400 mila euro, di cui 80 finanziati dal comune di Vaiano. Abbiamo praticamente completato la parte in legno con una struttura in acciaio e abbiamo ridato l'agibilità al transito ciclo pedonale. Il legno era in pessime condizioni, non garantiva più la staticità, quindi abbiamo inserito delle protesi in acciaio e con questa struttura mista adesso il ponte ha di nuovo la sua agibilità a 500 km2. Adesso resta da aggiungere l'illuminazione lungo ponte. ogni due metri e mezzo saranno infatti realizzati nei prossimi giorni delle plafoniere a LED. Ma è stato previsto anche un sistema per la manutenzione. E' un carrellino pensile che abbiamo appoggiato alle sponde, questo che si vede qui, che praticamente potrà poi essere utilizzato anche per la manutenzione ordinaria. Lo lasciamo diciamo in eredità al comune una volta finiti i lavori. Intanto a maggio verrà messa la prima pietra per il nuovo tratto di collegamento della ciclabile fra Vaiano e Prato, un progetto che vale oltre un milione di euro. L'obiettivo è di mettere la prima pietra già all'inizio del mese di maggio. Il ponte della Tignamica è l'unico passaggio in sicurezza per gli abitanti della Tignamica per andare verso l'Avriglia, per cui l'apertura di oggi è estremamente importante ed attesa da tutti i cittadini. Stiamo lavorando per aprire quanto prima, crediamo nel giro di un mese di poter aprire anche quello dell'Avriglia.